Nel primo venerdì di Ramadan, gli abitanti di Gaza pregano e tremano. Tremano di freddo, mosche inagibili, distrutte come tutto il resto. Tremano di fame, eroico in queste condizioni il digiuno rituale. Tremano di impazienza, non vedono l'ora di mettere le mani su un pacco piovuto dal cielo o sbarcato via mare. Finalmente è arrivata la chiatta con 200 tonnellate di materiale fornito dall'ONG americana World Central Kitchen che la nave dell'ONG spagnola Open Arms ha trainato da Cipro alla costa di Gaza. Finalmente qualche persona in più avrà qualcosa da mettere sotto i denti. Ma è ancora poco, pochissimo per così tante persone. Più di un milione soltanto quelle sfollate, ammassate a Rafa, in fondo alla striscia, dove comunque gli israeliani vogliono entrare. Poco fa Netanyahu ha approvato i piani dell'operazione che prevedono anche l'evacuazione dei civili. Ma verso dove e come? In questi cinque mesi di occupazione il governo di Tel Aviv non ha mostrato alcun riguardo per i civili. Dei 31.500 morti, per tacere dei feriti e dei dispersi sotto le macerie, meno di un terzo sono guerriglieri di Hamas. Adesso Israele parla di isole umanitarie. Sa tanto di propaganda, mentre i palestinesi di Gaza, come gli ebrei massacrati da Hamas il 7 ottobre, sono vittime della disumanizzazione, come ha detto il regista premio Oscar Jonathan Glaser, ebreo. Nel mese di Ramadan arriva l'appello alla pace da parte del di Castero Vaticano per il dialogo interreligioso. Paolo Fucili. Ogni guerra è fratricida, inutile, insensata e oscura. In guerra perdono tutti e, come dice Francesco, nessuna guerra è santa, solo la pace lo è. Riflessioni condivise dal Vaticano con i musulmani del mondo intero, in un messaggio di vicinanza e amicizia diffuso dal di Castero per il dialogo interreligioso, oggi, primo venerdì di Ramadan, mese islamico di preghiera e digiuno. Guardiamo all'onnipotente come al Dio fonte della pace. Uniamoci, è scritto, musulmani e cristiani, per spegnere il fuoco dell'odio e della violenza e accendere la dolce candela della pace, perché il numero di guerre nel mondo, incluse gli scontri che coinvolgono anche organizzazioni criminali, bandi armate e civili, è diventato davvero allarmante. Fra le cause principali sicuramente ci sono la produzione e il commercio di armi, ma ricavarne profitti è come intingere il pane nel sangue del fratello, come lo descrive Papa Bergoglio. Il Ramadan finirà con la prossima luna nuova il 10 aprile, celebrando in famiglia e in comunità la solenne festa di Idalfitr. Possano il digiuno e le altre pie pratiche di questo mese portarvi abbondanti frutti di pace, speranza e gioia, conclude il messaggio.